Il primo tempo ha giocato bene, il secondo tempo purtroppo la Sampdoria ha avuto la meglio giustamente perché ha dimostrato di avere degli attaccanti veramente bravi, dei giocatori in grado di fare la differenza. Nulla da rimproverare ai miei compagni, alla squadra perché credo che la squadra abbia dato il massimo, purtroppo oggi non siamo riusciti a ottenere un risultato positivo, però bisogna prendere le cose positive per continuare il nostro campionato nel migliore dei modi. Willi, è un campionato difficile questo, fuori di dubbio? Sì, è un campionato anomalo, un campionato che vede diverse squadre nella lotta a salvezza, noi abbiamo il dovere di fare il massimo fino alla fine, io continuo ad essere ottimista perché la squadra ha tutte le qualità per puntare all'obiettivo che si è prefissato, quindi continuo ad essere ottimista e credo che l'Atalanta farà l'Atalanta fino alla fine.